E' possibile ancora prenotare la cena che verrà servita presso i locali ritoranti della motocamera sotto la tribuna. E' possibile prenotarvi con dell'ottimo cibo in quantità al prezzo di 15 euro a passo e potete prenotarvi nei locali del bar sotto la tribuna. E' possibile prenotare la cena che verrà servita presso i locali ritoranti della motocamera sotto la tribuna. E' possibile prenotare la cena che verrà servita presso i locali ritoranti della motocamera sotto la tribuna. Grazie. Grazie.